Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo allenamento per la categoria Burn. In questo allenamento lavoreremo bene il nostro sistema cardiovascolare e tonificheremo gli addominali. Il circuito sarà composto da quattro esercizi, lo ripeteremo tre volte, con 50 secondi di lavoro, 10 secondi di pausa per 12 round. Avremo bisogno del tappetino, di due pesi leggeri e del nostro diario di allenamento. Partiamo! Primo esercizio, two hops in 180 gradi, butt peace. Addome contratto e schiena dritta. Respiro. Forza! Mi preparo per quattro mountain climbers e quattro reptile plank. dentro esterno. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Addome contratto. Potete anche fare questo evitando il saltello, controllando di più il movimento. faccivano di forza. Faccivano di forza. terzo esercizio è bassi colaps mi metto in questa posizione mani dietro la nuca e lavoro gli addominali obliquoli non mi fermo in mezzo ma passo da un lato all'altro gomiti aperti respiro forza ok prendo i pesi vi preparo per jump squat il lateral punch uno e due ruota il busto e la dritta e l'addome contratto sempre attivo quando salgo controllo i glusi posso evitare anche di saltare faccio lo squat e il punch riparto 2 hops e 180 barbis posso anche fare questo se sono troppo stanca evito il salto push up sulle ginocchia e su di nuovo e giro ancora ok mi preparo per mountain climbers vi ricordo che potete evitare anche il salto e fare questo in modo controllato addomattivo e respiro forza forza non molliamo mi preparo per bicycle abs gomiti ben aperti respiro dai che questo è il secondo round forza brevissimi continuate così forza prendi i pesi jump squat più lateral punch provate il busto mi ricordo solo squat e lateral punch squat forza forza respiro sempre addomattivo riparto terzo round da capo vi ricordo che potete evitare saltelli se siete troppo stanchi push up sulle ginocchia ed eventualmente giro senza salto prendete fiato dai che stiamo quasi alla fine mountain climbers reptile plank anche qui avete il saltello vi faccio 4 mountain climbers e 4 reptile plank controllo forza forza ragazzi forza forza non fermatevi ora forza la dame brucia lo so ma bisogna continuare piuttosto senza salto ma continuo ok dal terzo esercizio bansico lab quindi prendo un po' di fiato respiro sempre inspiro ed espiro bravissimi bravissimi forza con me che addominali bruciano bruciano e devono bruciare vuol dire che stanno lavorando ultimo esercizio ultimo esercizio jump squat e lateral punch anche qui vi ricordo potete fare solo lo squat giù bene con trago glute lateral punch con torsione del busto dai che ci siamo quasi respiro pochi secondi ancora ok abbiamo abbiamo finito il nostro workout adesso marciamo sul posto per far scendere i nostri battiti mi raccomando è importante fare dello stretching uno spuntino post workout e noi ci vediamo nei prossimi video workout ciao ciao Grazie a tutti.